Penso che bisogna farsi qualche domanda sul motivo per il quale la Corte Europea dei diritti dell'uomo sceglie di fare questa rimostranza verso l'Italia e non verso tutti i 47 paesi che compongono il Consiglio d'Europa compresa magari la Turchia, la Russia. Io penso che su un tema del genere debba deliberare il popolo italiano perché sulla questione pende vicenda di grande importanza che è quella del diritto d'adozione da parte delle coppie omosessuali dei bambini non dobbiamo prenderci in giro. Su una questione del genere noi non possiamo far decidere dei burocrati devono decidere gli italiani e i loro rappresentanti.